Come si formano i neurochirurghi? Scopriamolo insieme. Professor Di Meco, voi avete il centro Neurosim che è un punto di riferimento a livello europeo e internazionale, ma la mano del chirurgo affiancata alla tecnologia, che tipo di evoluzione ha avuto? Il centro di simulazione nasce come esigenza di voler, così come è avvenuto in aviazione, cercare di trasferire nel campo medico tutto quel complesso di protocolli che hanno permesso oggi giorno di abbassare il numero di incidenti che si verificano in aeronautica. La tecnologia che sostiene lo sviluppo della simulazione è estremamente importante in tutti gli aspetti della nostra attività perché usiamo la tecnologia sin da quando il paziente entra dentro la sala operatoria, ma anzi addirittura prima, in quanto ci permette di ricostruire la situazione del paziente, di addirittura simulare l'intervento chirurgico, di utilizzare uno strumento piuttosto che un altro e quindi direi che la tecnologia rappresenta oggi giorno lo strumento fondamentale per il neurochirurgo. Dottor Alessandro Perin, lo studio Passion che cos'è? È il primo studio prospettico randomizzato che vuole misurare in modo preciso l'impatto, l'utilità della simulazione nell'addestramento di un neurochirurgo. Il Best Neurosim Center è specializzato proprio nella formazione e nell'aggiornamento dei neurochirurghi. In che maniera? Abbiamo tutti i simulatori neurochirurgici più moderni e più efficaci per addestrare i neurochirurghi in formazione, gli specializzanti, in modo da permettere loro di imparare ad operare senza causare danni derivanti dall'inesperienza sui pazienti. Noi lavoriamo in stretta collaborazione con l'EANS, l'associazione europea che riunisce le neurochirurgie di tutti gli stati europei. Formiamo i neurochirurghi di tutta Europa, anche da altri paesi, ad esempio dal Nord Africa, dalla Cina, abbiamo importanti collaborazioni con la Cina e anche con il Nord America. Devo dire che abbiamo visto un miglioramento notevole, misurabile nelle abilità chirurgiche di questi specializzanti.